Il Presidente Il Presidente Renzi all'indomani dell'approvazione della legge sulle unioni civili che riconoscono le unioni omosessuali ha scritto un tweet nel quale dice ha vinto l'amore. Io, sarà per l'anagrafe e sarà per altri motivi, faccio fatica a capire non tanto il messaggio di Renzi quanto che cosa si intenda oggi per amore. E comunque a me sembra che anche questa legge in qualche maniera vada ad intercettare dei desideri, dei diritti privati più che a promuovere il concetto di amore. E comunque non sono qui né a fare della polemica né a contestare, vorrei che come si fa vincere l'amore riconoscendo alle persone omosessuali il diritto di vivere in coppia, si facessero anche delle agevolazioni o un sostegno a quelle coppie tradizionali, chiamiamole così, che forse oggi non vanno molto di moda, di cui non si parla molto. E sono quelle coppie eterosessuali che hanno sulle loro spalle una famiglia. Sappiamo quante difficoltà oggi per ragioni economiche, per ragioni sociali e culturali incontrino queste famiglie e quanto bisogno ci sarebbe di dar loro una mano. Purtroppo ho l'impressione che nella società ancora una volta si veda la famiglia come un ambito in cui dovrebbe intervenire l'assistenzialismo statale. E questo è il grande equivoco, cioè vedere la famiglia quasi come un peso sociale sul quale lo Stato deve intervenire come tutte le realtà che non riescono a mantenersi da sole. In realtà lo Stato, aiutando la famiglia, dovrebbe riconoscere che è la famiglia il fondamento della società e quindi dello Stato. Perché è la famiglia che genera i figli, è la famiglia che spesso con il lavoro di squadra promuove un grande sviluppo economico. Lo sappiamo, il miracolo del Veneto, il miracolo economico del Veneto è stato soprattutto il miracolo di aziende familiari. Insomma, vorremmo, io avrei il desiderio che l'amore trovasse un rilancio, non soltanto attraverso le unioni civili, ma anche attraverso le famiglie che tutti i giorni fanno fatica ad andare avanti. Per esempio, con il riconoscimento di alcune agevolazioni per le famiglie numerose. Anziché guardare le famiglie numerose come un incidente di percorso o come qualche cosa di fuori moda, sarebbe il caso che noi guardassimo ad esse come davvero un sostegno e un fondamento della società. Vorrei che si promuovesse l'amore in quelle case dove si fa fatica a mantenere una persona portatrice di handicap o un anziano. Oggi lo sappiamo che tante volte gli anziani, proprio perché la famiglia da sola non ce la fa, vengono messi in qualche istituto pubblico, dove da una parte si consuma anche una grande energia economica, perché oggi sappiamo che queste residenze costano parecchi soldi alle famiglie, ma dove si consuma soprattutto quella che Papa Francesco ha chiamato una eutanasia strisciante. Queste persone che pian piano si lasciano andare perché lontani dalle loro famiglie. Allora, quando si dice ha vinto l'amore, vorrei che l'amore vincesse anche in questi ambiti. Vorrei che l'amore vincesse attraverso una campagna di educazione delle nuove generazioni, che non per colpa loro, ma per colpa di una cultura che respirano, qualche volta confondono l'amore con un esercizio da palestra. L'amore è qualche cosa di molto più profondo. Vedete, io vorrei davvero che oggi si tornasse a parlare di amore serio. Io sono figlio di una generazione che ha imparato a conoscere l'amore guardando i propri genitori. E noi abbiamo visto nei nostri genitori due ruoli che vivevano in maniera simbiotica, il ruolo della coppia e il ruolo del genitore, ed erano inseparabili, interdipendenti. E il ruolo della coppia non è che l'abbiamo visto in coppie sentimentali, in coppie, come dire, con linguaggio moderno, che vivevano così, di innamoramento. Io non ho mai visto i miei genitori baciarsi pubblicamente. Eppure erano delle coppie che avevano una grande solidità, perché in queste coppie, ripeto, non c'era soltanto l'illusione sentimentale, la carica emotiva dell'innamoramento, ma c'era la responsabilità, la condivisione di valori, lo senso del sacrificio. C'era una grande complicità. Bastava guardarli in faccia, questi genitori, per capire che tra loro si erano capiti. Quindi emergeva il ruolo della coppia ed era un ruolo che emergeva con un linguaggio particolare. Ma nello stesso momento emergeva l'amore del genitore. Il genitore che si prendeva cura di queste famiglie, spesso numerose, cavandosi il pane della bocca, perché questi marmocchi diventassero grandi e avessero gli spazi della dignità e della libertà della vita. Ho l'impressione che in questi ultimi tempi siamo passati dalla cultura della responsabilità, della partecipazione, quella degli anni 70, quando anche Gaber cantava che diceva che l'importante è la partecipazione. Siamo passati, pian piano, senza rendercene conto, a una cultura molto individualistica. Se dovessi dirvi schiettamente io oggi vedo emergere più la cultura della coppia piuttosto che la cultura della coppia unita a quella del genitore. Assistiamo a una grande separazione tra queste due realtà. Le troviamo spesso proprio assolutamente separate, quasi fossero incomunicanti. E noi sappiamo che il principio della coppia, se non stiamo attenti, rischia di diventare un principio individualistico. Perché se lo stare insieme viene dissociato dal principio della genitorialità, alla fine quello che cerca una coppia è quello di star bene con un partner. E allora tu stai con un partner, ci stai fin tanto che ti senti bene, fin tanto che quella che io chiamo l'illusione sentimentale dura, fin tanto quindi che il principio del piacere dà una risposta. E qui non è più vivere è cambiare adattandosi a quello che viene perché la coppia resista. Ma qui è subentrato il principio cambiare per vivere. Cioè il gusto della novità, il gusto di un piacere che si rinnova continuamente cambiando coppia, prende il sopravvento e quindi assistiamo a un instaurarsi di una fragilità della coppia, per cui tante volte diciamo che l'inizio di una coppia segna drammaticamente anche l'inizio della sua fine. Però in questa mutazione continua per cui si cambia partner per rivivere quelle emozioni, per rivivere quelle illusioni sentimentali che non si trovano più con quello precedente. Capite che se questa è la cultura che sta venendo avanti, questo vuol dire che in qualche maniera l'interesse del piacere dei singoli prende il sopravvento sull'aspetto della responsabilità familiare. Dall'altra parte, dicevo, vedo ormai però molto scollegata il principio della genitorialità che cammina da solo. Sto pensando per esempio a tante persone, in modo particolare a tante signore, che pianificano la nascita di un figlio quando hanno in qualche maniera sistemato già la carriera. E tante volte questo figlio viene fatto scadere in quella frontiera biologica anagrafica in cui bisogna intervenire giusto al momento giusto perché si rischia di passare dal ruolo di mamma all'immagine di nonna per dire insomma che il figlio lo si fa all'ultimo momento nei tempi ancora utili per evitare che questo poi diventi la situazione di una nonna. Ecco, tutto questo ci dice allora che anche la genitorialità non si esercita più all'interno di un discorso di coppia ma si esercita come fatto culturale in sé il diritto ad avere un figlio. E allora si ha un figlio a qualsiasi età, allora si fa il figlio con la fecondazione eterologa, allora tutti gli espedienti diventano buoni per raggiungere l'obiettivo. Io credo, vedete, che oggi dobbiamo superare una sorta di ubriacatura culturale e credo che l'investimento dovrebbe avvenire proprio ricongiungendo la coppia con la genitorialità. Ricongiungere la coppia alla genitorialità fa bene prima di tutto alla coppia perché se la coppia si assume delle responsabilità la coppia in qualche maniera è obbligata a tener duro e a stare insieme e a vincere le difficoltà inevitabili che si incontrano nella vita. Ma direi anche unire la genitorialità alla coppia per evitare lo scempio al quale stiamo assistendo in questi ultimi tempi. Vedete, dico e concludo, io ho sentito in questi ultimi tempi tante affermazioni da parte di tante donne nel difendere la dignità della donna, che la donna non torni ad essere una merce con il suo corpo. Tutte affermazioni legittime. Abbiamo sentito tanti opinionisti, intellettuali, artisti mettersi psicologicamente nei panni degli omosessuali per difendere i loro diritti, per tutelare i loro diritti. Io non ho sentito mai, mai uno che si sia messo nei panni psicologici di un bambino per domandarsi, per dar voce a questo bambino, per dare parole al linguaggio di questo bambino, magari al pianto di un bambino che piange perché? Perché cerca il seno della mamma. Per dare voce ai sentimenti di un bambino che al termine di una giornata dopo aver giocato, quando comincia a penzolare il suo capolino perché è stanco e ha voglia di dormire, inevitabilmente allunga le braccia verso una madre, verso sua madre, che sia solo un discorso di educazione o che sia un qualche cosa di più grande. Vorrei che dessimo voce ai ragazzi, agli adolescenti, a noi che siamo stati adolescenti, giovani e che andavamo da nostra madre per chiedere quello che poi magari ottenevamo da un padre. e questo non perché eravamo dei mammoni ma perché la donna nella sua psicologia è il santuario dell'accoglienza che accoglie i desiderata, che ammortizza le spinte aggressive, che stempera le tensioni. Vorrei che dessimo voce a persone anziane, morenti, che in prossimità della morte ancora invocano la loro madre. Sarà solo un fatto culturale o un qualche cosa di più. Se metteremo insieme la coppia con l'essere genitori non ci sarà bisogno di risposte perché le risposte vengono da sé. a a a a a a Grazie a tutti.